buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di recensioni veloci questa sera parleremo degli auricolari bluetooth della iobola ecco sono arrivati questi auricolari bluetooth in questa confezione di cartone molto stilosa con la scritta iobola appunto dorata in rilievo e andiamo a vedere subito dentro come si presentano eccolo qui apriamo la scatolina e troviamo il contenitore degli auricolari molto stiloso compatto piccolo o una forma circolare con l'ingresso usb.c abbiamo ovviamente gli auricolari molto molto piccoli anche questi stilosissimi un bel nero lucido e qua abbiamo sicuramente il cavo ecco qui il cavo usb 2.0 da un lato tipo a e usb.c apriamo la custodia ecco qui la carica del nostro contenitore 99 per cento come al solito sistema magnetico gli appoggiamo e gli auricolari cercano come potete vedere il pairing sono diventati blu e stanno da andando in carica con estrema facilità troviamo subito questi t9 e t5 anzi scusate connessi infatti i dispositivi non sono più blu e se sono rossi e li troviamo connessi al nostro dispositivo devo dire un suono molto pulito e cristallino per questi auricolari e molto compatti tra l'altro non hanno particolari problemi insieme a una forma molto confortevole all'interno dell'orecchio i classici comandi touch potete saltare le tracce oppure il controllo vocale tipo con siri abbiamo le indicazioni lateralmente dell'oricolare destro e di quello sinistro ecco qua sicuramente molto semplici bluetooth 5.0 l'accoppiamento è immediato il caricatore è assolutamente piccolo e compatto faremo delle altre prove per vedere un po anche la durata ma sicuramente sono molto eleganti come si presentano e compatti anche per il loro utilizzo all'interno della custodia troviamo anche un sacchetto in similpelle per contenere il caricabatterie e il classico manualetto anche in lingua italiana con poi ovviamente il classico tagliandino con il ringraziamento eventuali problemi per contattare l'assistenza